Ridacchio perché mi fa delle domande che contengono un elemento di ironia e che io considero per l'appunto spirito. Che lei apprezza diciamo. Apprezzo molto e pertanto non apprezzo anche l'eccesso di conferenze stampa del Presidente del Consiglio. Credo che dovrebbe anche lui essere più moderato, essere un po' più prudente. Non ha tutte le sere qualcosa da raccontare, non lo faccia. Lo faccia di tanto in tanto quando ha un messaggio specifico, preciso, magari anche più efficace da trasmettere.